Una grande prestazione che ci ha portato finalmente i tre punti che aspettavamo da un po', dove collezionavamo parecchie buone prestazioni ma non riuscivamo mai a portare a casa i tre punti. Oggi, finalmente, con tutta la rabbia e dopo aver preparato bene l'ennesima partita, si è riuscita a portare meritatamente i tre punti a casa. Penso che se io e Dimas riusciamo a fare bene davanti, è merito anche di tutta la squadra che ci supporta, come ci hanno sempre supportati, e oggi fare gol tutti e due, meno male, aspettavamo da un po'.